Sì, oggi due punti persi o uno guadagnato? Penso che meritavamo qualcosa in più, però sono contento lo stesso. Ecco, nonostante le condizioni del campo pesanti dovute al maltempo, si è visto un buon calcio? Sì, io penso che chi era a vedere si sia divertito, perché è stata una partita dove c'è visto gioco, c'è visto tecnica, tattica, lotta fisica, perché il campo era pesante, però non possiamo pretendere di più. Ci sono state cinque partite che sono state rinviate, ci sono state schermaglie, le ho definite fioretto, fioretto durante la partita, gli equilibri in mezzo al campo, è stato un bel divertimento con il mister Fattori nel muovere le pedine per cercare soluzioni che potessero portare alla vittoria.